in questa puntata migranti no alla realizzazione di un cpr in toscana partito da prato il core comtour approvata maggioranza dall'aula del consiglio regionale la mozione del pd primo firmatario il capogruppo vincenzo ceccarelli che impegna la giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di cpr centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio regionale credo che invece occorra affrontare il fenomeno in maniera strutturale con una visione complessiva con umanità che è il primo requisito perché stiamo parlando comunque di persone umane che spesso scappano da luoghi che sono invivibili perché ci sono le guerre perché c'è la carestia perché comunque non c'è una prospettiva di vita per quanto riguarda soprattutto i minori che arrivano con gli sbarchi tenendo anche conto di quelle che sono le esigenze del mondo produttivo tutto questo deve coinvolgere quindi tutta la filiera istituzionale e non può essere trattato ad esempio con i cpr che si rivelano delle strutture che erano nate per essere strutture di accoglienza dove le persone potevano stare al massimo 30 giorni e che invece ora in base all'ultimo decreto possono accogliere questi migranti e addirittura per 18 mesi e dal dibattito che ne ha scaturito abbiamo come dire anche compreso qual è la concezione che la destra ha dei cpr cioè vale a dire un surrogato delle carceri ma non è questo cioè le persone che delincono in italia di qualsiasi nazionalità siano devono andare in carcere ma chi non ha i requisiti e chi non ha commesso reati non può stare fino a 18 mesi in dei luoghi che si rivelano dei luoghi di detenzione spesso anche gestiti in qualche modo da personale che non è sufficientemente specializzato ecco perché noi abbiamo con questa mozione ribadito il nostro no alla realizzazione cpr in generale e in toscana in particolare e abbiamo anche invitato la giunta ad esprimere questa posizione a continuare ad esprimere questa posizione nei confronti del governo a cercare invece assieme alle altre regioni con il governo delle soluzioni che siano soluzioni integrate che siano delle soluzioni che abbiano le caratteristiche dello strutturale. Sì per noi è fondamentale fare un cpr in toscana e non lo dice la lega ma lo dicono anche i prefetti per un tema di sicurezza perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza invocare il ministro degli interni per un aiuto chiedere al governo che intervenga anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi del sindaco Nardella però quando il governo chiede Toscana facciamo un accordo firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un cpr la risposta è no la sicurezza parte e passa anche da un cpr in Toscana il cpr lo faremo, in Toscana il cpr il governo lo farà lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la regione toscana a un accordo su dove il cpr nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'Anci perché c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi pensate a quante ore la nostra polizia, i nostri carabinieri trascorrono in macchina portando un singolo immigrato in un cpr che è molto distante dalla Toscana abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di più sicurezza, abbiamo bisogno di più militari il governo risponde sì ogni qualvolta la regione o i sindaci senza distinzione di colore chiedono un incontributo o un intervento da parte del governo e questo deve essere reciproco in un cpr non ci deve essere ideologia, non ci deve essere idee che si cerca di trasmettere ai propri cittadini dicendo che sono luoghi di disumanità perché così non è io mi chiedo e ho chiesto anche alla sinistra poco fa in consiglio regionale ma quando la disumanità era nei centri di accoglienza, quando 70, 80 centri immigrati vivevano in 40 metri quadri, ecco in quel caso la sinistra non si indignava non ci deve essere differenziazione di trattamento, non ci sono centri di accoglienza di serie A e centri di rimpatrio di serie B, l'umanità deve esserci sempre ma deve esserci sempre anche la sicurezza e la tutela del cittadino in primis anche in Toscana Ma questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso i sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando evidentemente non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare una sorta di lagare in Toscana da dove concentrare un numero indiscriminato diciamo di persone che vengono accolte giustamente salvate nei mari ma questa non è una risposta serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente Il governo sta cercando delle soluzioni, non le ha trovate e soprattutto ne sta condividendo con gli enti locali quello che chiediamo è che ogni soluzione che riguarda una comunità debba e possa essere condivisa comunque con la comunità nella quale un impatto del genere modificherebbe il livello della qualità della vita e della sicurezza dei cittadini toscani Noi abbiamo partecipato al dibattito in aula che è stato un dibattito illuminante ha anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centro-destra e parte del centro-sinistra e ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione perché da parte del centro-destra sembra molto semplice la soluzione cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema si riportano tutti a casa loro e finisce qua ecco invece il problema nasce anche a livello europeo non sono stati in grado nemmeno ora che sono al governo a far rivedere il trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia ma soprattutto non si affronta il problema umanitario ecco qui è stato palese l'adversità di differenze e di sensibilità fra la destra e il centro-sinistra io vorrei però evidenziare come ho fatto anche in aula che forse sottovalutare il sentimento di insicurezza e la percezione di pericolo e di paura che è nella popolazione da parte del centro-sinistra è un problema e soprattutto un grave errore perché è quello su cui il centro-destra ottiene sempre maggiori consensi quindi una soluzione va trovata e soprattutto va pubblicizzata va affrontato il problema e proposto delle soluzioni che non sono sicuramente semplici sono soluzioni complesse se ne sta rendendo conto anche il centro-destra ed è evidente che la discussione di oggi cerca di ributtare la palla in tribuna addossando e cercando di trovare delle soluzioni a livello regionale e comunale ma non è così esiste un'emergenza che mi auguro tutti i contrari e favorevoli al CPR vogliano riconoscere ovvero quella di allontanare dal nostro paese chi entra in Italia per delinquere io mi auguro che al di là del dibattito sul CPR sì, CPR no vi sia questa decisenza condivisa se una persona entra in Italia e compie un reato deve essere espulsa per poterla espellere serve una struttura in cui metterla in attesa di espulsione il CPR è questo io stamattina ho ascoltato in aula persone che parlavano di ragazzi da accogliere che vengono a farsi la seconda vita in Italia che devono avere una seconda opportunità ragazzi che sono arrivati e grazie alle strutture d'accoglienza hanno conseguito la patente di guida tutto bello non stiamo parlando delle stesse persone il CPR è una struttura che serve a contenere chi delinque chi viene in Italia a cercare di prendersi la patente di guida è liberissimo di continuare a farlo chi viene in Italia per spacciare cocaina al parco delle cascine no io faccio un esempio vado lungo ma permettetemi di farlo io non sono mai stato un fan a prescindere del CPR non ho mai pensato che il CPR risolvesse i problemi tutti i problemi fosse la panacea di tutti i mali la scorsa settimana a Firenze un signore ha preso a botte un anziano di 92 anni per strada in pieno giorno per rubargli l'orologio questa persona due giorni prima aveva fatto la stessa identica cosa col priore di Santo Spirito se in Toscana avessimo avuto il CPR dopo il primo reato questo soggetto stava all'interno di un CPR se stava all'interno di un CPR non pestava a sangue un 92enne per rubargli l'orologio ecco perché siamo a favore del CPR partito da Prato Corecom Tour la prima campagna di ascolto in formazione del Comitato Toscano per le comunicazioni un tour importante noi siamo ovviamente felici del fatto che parta proprio da Prato e che veda la nostra provincia la prima coinvolta in questo progetto di conoscenza ed illustrazione delle numerose competenze attività che il Corecom Toscana effetto e porta avanti per i cittadini e diciamo per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della comunicazione è un organo questo importante devo dire insomma assolve veramente delle funzioni strategiche anche riguardo alla vita e alla quotidianità delle persone penso ad esempio a due tra i numerosi compiti che assolve innanzitutto quello delle controversie riguardanti ovviamente internet le operatori telefonici o ancora i contratti con le pay tv che è secondo me un servizio fondamentale completamente gratuito a servizio del cittadino che può aiutare diciamo le singole persone nelle difficoltà che hanno con i singoli operatori di risolvere i propri problemi io anche i dati che sono stati illustrati li ritengo davvero straordinari l'83% di queste controversie trovano una soluzione positiva e quindi tutto questo insomma mi porta a cercare ovviamente di far conoscere sempre di più quello che è l'attività e la funzione del Corecom accanto a questo un tema che mi sta particolarmente a cuore quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti le buone pratiche riguardanti il mondo digitale soprattutto il mondo dei social e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole con il patentino digitale che aiuta e penso che questo sia fondamentale avere corretti comportamenti rispetto e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici quindi sicuramente un tour importante onorati di partire da qui da Prato e felici insomma di avere a disposizione una struttura un organo che attraverso la regione toscana insomma tutti i cittadini in modo gratuito può dare tante risposte Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione ma anche di ascolto andando in giro illustrando le funzioni del Corecom che è l'organo di consulenza e di garanzia della regione toscana nella comunicazione dando informazioni sulle varie funzioni sia per quanto riguarda in generale la vigilanza e la gestione sovraintendere a quelle che sono le programmazioni televisive radiofoniche in Toscana ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale che è quella informazione formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di internet e dei social penso a tutto il tema anche che riguarda le gestioni delle controverse telefoniche tra i cittadini e le compagnie telefoniche le tv a pagamento e internet in modo che in questo senso il Correco svolge una funzione di conciliazione gratuita un servizio gratuito in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini è un'istituzione molto importante è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni è importante soprattutto per quanto riguarda le controverse per esempio in materia di telecomunicazioni ma anche progetti rivolti ai giovani quindi tutto quel mondo che è la comunicazione che è sicuramente un mondo delicato che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti i cittadini qualsiasi iniziativa come questa che ne promuovono l'informazione e anche l'accessibilità da parte per le persone da parte delle persone è benvenuta perché sicuramente è un modo in più per far capire che questo organismo è a servizio delle persone e quindi la regione toscana ha pensato ad un qualcosa che potesse avvicinare i cittadini e sentirsi meno soli soprattutto in tema di comunicazioni Grazie a tutti